Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha finalmente deciso. Vanno eliminati almeno 50 orsi, perché sono troppi e soprattutto perché non ci sono altre zone disposte ad ospitarli. Del resto l'abbattimento selettivo è normale in tutte le aree del mondo in cui vivono questi plantigradi, a cominciare proprio dalla slovenia, da dove nel 1996 arrivarono i 10 esemplari introdotti in Trentino col progetto Life Ursus e per il quale, ricordiamolo, la provincia autonoma di Trento, ha preso molti soldi per gestire la presenza di questi bestioni. E adesso, come purtroppo accade sempre in Italia, in mancanza di un piano di contenimento a causa dell'incompetenza ma soprattutto del menefrighismo dei politici, sia ben inteso di tutti i colori, visto che a Trento negli anni ha governato sia la sinistra del PD di Lorenzo Dell'Ai che l'attuale lega di Maurizio Fugatti, ci si ritrova a tamponare gli effetti di una tragedia. Ora che sappiamo essere stato l'orso ad aggredire ed uccidere Andrea Papi, la politica si sveglia, c'è di mezzo la sicurezza pubblica e quindi si adottano le misure tutte insieme che se fossero state rispettate nell'arco dei 25 anni di vita del progetto, con l'abbattimento medio di circa due orsi l'anno, probabilmente tutto sarebbe filato liscio. È stato l'uomo a voler scongiurare l'estinzione di un predatore alfa in una regione abitata dagli esseri umani? Ebbene all'uomo adesso spetta la responsabilità di riequilibrare in sicurezza la presenza di questi animali che per lo standard umano, ricordiamolo, restano delle pericolose belve. E la famiglia di Papi ha il sacrosanto diritto di ricorrere alle vie legali contro la provincia e contro lo Stato, come farebbe chiunque di noi quando la vittima è una persona cara. Il resto delle polemiche animaliste lette tra i commenti, anche di chi adombra assurdità come quella che l'uomo invade lo spazio degli orsi, in zone oltretutto dove l'uomo è arrivato prima, sono chiacchiere da salotto che servono solo alla causa della propria pubblicità.